Da oggi non è più in edicola il Corriere del Giorno, testata storica del capoluogo ionico, fondato nel 1947 dall'86 edito dalla cooperativa 19 luglio. 22 soci lavoratori vanno in cassa integrazione al momento fino ad ottobre prossimo. Di questi 14 giornalisti e 8 amministrativi e poligrafici. Il calo del fatturato pubblicitario, delle vendite, dei contributi statali e qualche errore di troppo nella gestione finanziaria, hanno portato al collasso. 8 milioni di euro di debiti, tre mesi di gestione commissariale del Ministero dell'Economia. Tre giorni fa la decisione di sospendere le pubblicazioni. La strada è in salita. Si prospettano due possibilità per la ripresa. Gianni Svaldi, ultimo direttore della testata, già membro del comitato di redazione. Quali possibilità ci sono di uscire da questa crisi? Al momento le possibilità sono due. Quella più auspicabile che gli ex soci della cooperativa tornino in cooperativa per rilevare il giornale, la testata e ripartire, usufruendo anche in questa maniera di tutte le agevolazioni che può avere un giornale fatto appunto in maniera cooperativa. L'altra soluzione è un editore che rilevi la testata o l'intero ramo aziendale, mantenendo ovviamente come testata al Corriere del Giorno e riparta però questa volta non più con quella bella formula della cooperativa che per 30 anni ha gestito il Corriere del Giorno ma come editore. Qualcosa di diverso.